il pezzi di salve no? io sono riuscito a vederlo quest'anno dal balcone di casa di mio papà che è un vantaggio sotto certi profili nel senso che uno vede giù tutta la barata dei cantanti, cantanti, presentatori, presentatrici eccetera però nel momento in cui magari ti viene un giramento di insomma non so capito cosa si può dire nel momento in cui ti viene un giramento non puoi cambiare canale perché se tenti di cambiare canale papà ti burlo e gioco, rischi di buttarti giù e cadere dal balcone c'è una cosa che mi ha lasciato veramente emozionato in questo festival questa canzone di Vasconossi che come moltissimi di voi questa cosa della vita come la sente lui e devo dire che è stata una cosa importante per i giovani e ho avuto la fortuna di averlo con noi in presunzione mi canterà questo, l'abbiamo fatto insieme ho cercato di fare un'azione di disturbo ma spero che si sia divertito anche lui per cui a voi Vasconossi grazie a tutti